buonasera buonasera a tutti e benvenuti al webinar di questa sera ventidue aprile tema di oggi veramente interessante parleremo di trading in breakout e lo faremo insieme a Salvatore Billotta che vado subito a salutare ciao Salvatore come stai? Ciao Filippo ciao grazie tutto bene ciao a tutti buonasera ben ritrovati ancora qui in casa trading facile ciao a tutti perfetto grazie mille Salvatore saluto tutti quelli che sono collegati mano a mano diciamo la room si sta eh riempiendo ma io non vorrei perdere troppo tempo perché abbiamo veramente tante cose interessanti da vedere questa sera innanzitutto la prima cosa che vi chiedo è un check se in chat cortesemente ci fate sapere se vedete correttamente lo schermo e se sentite i nostri audio così anche noi abbiamo un un feedback eh immediato intanto io saluto saluto Mariana saluto Mauro Giovanni Raffaele Giampaolo eh tutti quelli che che sono collegati con noi perfetto grazie Romolo e ci dice che l'audio il video è ok perfetto grazie anche agli altri per il feedback eh quindi bene Salvatore io direi di partire subito perché abbiamo tanti contenuti da da mostrare questa sera io come sempre vi ricordo che eh potete utilizzare la chat per porci eh tutte le vostre domande insomma ecco quindi cercheremo lo sapete nei limiti del possibile di rispondere eh a tutti eh quindi ci siamo io passo subito la parola a Salvatore per appunto una presentazione del broker che ospita appunto l'evento di questa sera che è il broker K2 Trading eh e quindi lascio la parola a Salvatore per la presentazione del broker. Ok grazie grazie Filippo. Allora eh cerco di essere breve innanzitutto devo dire grazie a tutti di essere qui stasera secondo appuntamento di questa serie insieme ai ragazzi di Trading Facile sono davvero contento vedo che siete sempre sempre di più sempre in tanti quindi vuol dire che i contenuti offerti sono buoni e piacciono se erano buoni non avevamo dubbi ma che piacciono quindi e che eh vi incuriosiscono eh ovviamente se ci dimostrate sempre più attenzione e sempre più interesse queste sere ci auguriamo no? Avranno una lunga 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 vita eh ancora qui in casa K2 Trading. Vado veloce alla lettura del disclaimer per mia vostra e anche di Filippo tutela eh di tutti noi. Allora questi materiali costituiscono materiale didattico e non prendono in considerazione le circostanze personali, l'esperienza di investimento o la situazione finanziaria attuale. Il contenuto è fornito come commento di mercato generale e non deve essere interpretato come contenente alcun tipo di consiglio di investimento, raccomandazione di investimento e o sollecitazione per qualsiasi investimento. Questa comunicazione di mercato non implica o impone l'obbligo per l'utente di eseguire un'operazione di investimento e o acquistare prodotti o servizi di investimento. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. La stragrande maggioranza dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD con questo fornitore. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Io sono un salvatore bilotta per chi di voi non mi conoscesse sono trader di professione adesso analista per casa key to trading nasco come trader dei mercati valutari e lì il mio core business e poi ovviamente mi espando un po' in tutti gli altri settori commodities amo le correlazioni inter e market quindi la mia lettura del mercato è sempre comunque ampia a trecentosessanta gradi. In casa key to trading eh si lavora cercando di dar sempre il massimo della qualità quindi prelivi e depositi istantanei fondi segregati esecuzione rapida attenzione siamo un broker europeo regolamentato consum abbiamo ovviamente un broker ACN quindi non di lindeschi i vostri ordini vanno diretti a mercato eh abbiamo offerto sul mercato forex mio core business eh indici materie prime e azioni soprattutto sulle azioni eh si sta lavorando tanto in casa key to trading per ampliare sempre di più tantissimo l'offerta adesso sono state inserite tante materie prime eh le cosiddette soft commodities no? E quindi tanta tanta offerta che sta crescendo sempre di più quindi venite a dare uno sguardo sguardo per eh i prodotti offerti key to trading una società di brokeraggio indipendente che offre accesso ai mercati finanziari a trader privati la nostra società offre un'ampia gamba di prodotti e strumenti e un eccellente servizio clienti con l'obiettivo di fornire ai nostri clienti un'esperienza di trading completa e innovativa un team di esperti con un approccio chiaro ed efficace fanno di key to trading un partner di fiducia per ogni tipo di investitore e siamo qui appunto a fare didattica. Filippo io mi permetto di fare la tua presentazione anche se ovviamente non ce ne sei per bisogno ma è doveroso no? Da parte mia eh fare anche questo. Eh Filippo ingegnere socio professional SIAT dal duemiladieci opera come trader indipendente e analista tecnico sviluppatore di algo trading e responsabile del settore formazione di trading facile punto EU software e company che si occupa dell'ideazione programmazione e distribuzione di trading system automatici applicabili ai mercati finanziari. Il invitato regolarmente come relatore all'ETF forum all'ET forum tool expo investing Roma Napoli ci siamo visti infatti nell'ultimo investing di Napoli con Filippo collabora attualmente con progette state giornalistiche realizzando analisi sui principali indici e cross valutare oltre a seminare eventi formativi sia dal vivo che online pubblica regolarmente le analisi di mercato sul proprio blog trading facile punto EU oltre che sui principali portali finanziari come investing trend online e trader link. Questo è il mio dovere. Stasera Filippo io ti lascio subito la parola perché siamo eh nel vivo di questo appuntamento sono davvero curiosissimo di seguire eh il trading in breakout è una delle strategie che io seguo e che amo eh anche per il mio per la mia operatività quindi voglio davvero eh seguirti in tutto tutto preparati alle domande ai domandoni. Va benissimo va benissimo Salvatore tra l'altro io ricordo che eh avremo prima della fine del mese anche un altro evento da non perdere insieme a Salvatore perché lunedì ventinove aprile alle ore diciotto eh avremo eh parleremo di un tema importantissimo perché il il webinar sarà eh incentrato appunto sul contesto macroattuale quindi inflazione e banche centrali cosa possiamo attenderci eh nei prossimi mesi e quindi qui faremo proprio una panoramica a trecentosessanta gradi e parleremo un po' di tutto appunto anche insieme a a Salvatore visto che lui ama eh e appunto è esperto di correlazioni eh per quanto riguarda il Forex quindi sono sicuro che sarà un appuntamento molto eh seguito quindi mi raccomando il link per iscrivervi lo trovate sul nostro sito che ve lo ricordo è www.tradingfacile.eu qui sotto agli eventi della settimana trovate i link per iscrivervi tra l'altro già da eh i prossimi giorni uscirà anche il calendario del mese di maggio perché anche a maggio avremo tre appuntamenti con Keto Training e quindi calendario calendario veramente denso di eh appuntamenti ma eh torniamo appunto anzi andiamo subito a eh focalizzarci sul su quello che è il tema odierno prima di partire vi ricordo i nostri contatti la mail la mail generale è info chiocciolatradingfacile.net mentre la mia mail è filippo chiocciolatradingfacile.net mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ai nostri canali social quindi canale YouTube pagina Facebook e canale Telegram per aiutare a far crescere la nostra community e rimanere aggiornati in tempo reale con tutte le nostre iniziative. Bene quindi come detto eh tema di oggi trading in breakout quindi quali regole seguire? Faremo un po' una una panoramica eh in generale su questo tipo di operatività un' operatività che è tra le più comuni però eh questo evento anche nasce dal fatto eh appunto di eh avere dei feedback eh non troppo positivi su questo tipo di eh operatività da parte appunto eh dei trader specie quelli che magari approcciano eh da poco il mercato perché comunque il trading in breakout è un trading all'apparenza semplice eh è un trading che però riserva delle insidie eh e insomma ecco va eh prima di appunto andare a ad operare con questo tipo di strategie vanno poi conosciute insomma ecco tutti i i risvolti quindi eh anzi sotto sotto questo punto di vista eh avete la la chat a disposizione quindi fateci sapere se eh operate se avete delle strategie in breakout se operate con questo tipo di strategie oppure se eh lo avete fatto e con che risultati quindi quali sono le difficoltà eventualmente maggiori che eh state riscontrando con questo tipo di operatività eh Salvatore ci chiedono anche la la tua mail per eh sulla chat possiamo farla vedere al volo non so se ce l'ho io tra le mie slide o se non la scrivi tu direttamente sui commenti. Metto in chat qui nei commenti sì. Ok. Salvatorebilotto.com ragazzi semplice 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 eh poi in generale mi trovate su tutti oramai su tutti i canali Key to Trading quindi ovunque mh su i portali Key to Trading dal canale Telegram a YouTube basta che scrivete e trovate mezzo. Perfetto perfetto quindi eh l'operatività in breakout che tipo di eh operatività è un'operatività insomma ecco che eh rientra all'interno di quelle strategie della famiglia diciamo di strategie che chiamiamo le trend follow cioè quelle nelle quali si cerca appunto di eh entrare nella direzione del trend principale quindi si aspetta ehm un segnale di direzionalità e appunto si cercano di sfruttare gli impulsi del trend principale contrariamente ad esempio eh rispetto a quello che accade quando invece si va ad operare con delle strategie min reverting dove eh si cercano insomma ecco i punti di eh inversione quindi quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle strategie dei sistemi trend following quindi dei sistemi in breakout beh i vantaggi eh sono che c'è un alto rapporto tra profit e risk per trade e c'è un alto average trade questo proprio perché eh una delle caratteristiche eh di queste di queste strategie è che appunto quando eh il il trend parte eh non si non dobbiamo essere tentati dal chiudere prematuramente la nostra strategia ma eh appunto dobbiamo lasciare eh il tempo eh al mercato appunto di eh muoversi nella nostra direzione auspicata eh e quindi insomma ecco c'è necessità appunto di ehm di stare magari ecco eh più tempo eh a mercato proprio perché uno degli svantaggi appunto che abbiamo con questo ehm tipo di strategie è che eh di fatto eh c'è un drawdown eh che può essere anche diciamo ecco marcato quando invece il mercato è laterale perché l'operatività in breakout è un'operatività che mediamente ha una percentuale di profittabilità eh che può essere anche inferiore al cinquanta per cento. Questo che cosa significa? Significa che su dieci trade che apriamo eh solamente quattro o cinque eh vanno eh a target quindi si chiudono con dei gain ma l'altra l'altra metà delle delle nostre posizioni si chiude in perdita e quindi per questo motivo è un'operatività che comporta anche eh molto stress perché è un'operatività diciamo ecco dove si prendono spesso o meglio più spesso che eh rispetto ad altri tipi di strategie si prendono gli stop loss però proprio per questo motivo quando il trend parte insomma ecco eh eh dalla nella nella direzione da noi auspicata non dobbiamo essere tentati dal chiudere la nostra strategia ma anzi dobbiamo rimanere a mercato proprio per compensare appunto di tutte eh quelle volte che eh prenderemo insomma degli stop stop che chiaramente saranno necessariamente di ampiezza molto più limitata rispetto a quello che è eh appunto il il guadagno medio per per singolo trade quindi eh come detto gli svantaggi sono che abbiamo un drawdown in mercati laterali perché comunque quando si parla di trading in breakout vanno messi in conto anche i break in che di fatto sono i falsi segnali quindi falsi breakout eh e questi appunto falsi breakout in condizioni appunto particolari possono eh diventare anche frequenti quindi portarci ad avere uno stress emotivo eh e poi insomma ecco eh con le strategie in trend following di solito eh quello che si va a fare è un un trading su dei segnali diciamo ecco eh ritardati quindi tipicamente si utilizzano eh anche per quanto riguarda degli indicatori si utilizzano gli indicatori lagging ok quindi eh indicatori che segnalano diciamo con un pochino di ritardo eh la partenza di un trend anche qui viceversa rispetto al discorso che si fa eh con le strategie min reverting dove lì ad esempio si utilizzano gli indicatori leading come il primo che mi viene in mente potrebbe potrebbe essere eh lo stocastico e lì invece appunto eh si cerca quanto più possibile di anticipare l'inversione di tendenza eh e quindi ecco eh tutto l'opposto invece rispetto a quello che succede quando eh andiamo a ad operare con eh indicatori trend following o comunque mettere in atto strategie trend following quindi abbiamo detto strategie eh in breakout eh come possiamo andare a costruire strategie in breakout beh la più comune delle strategie in breakout è quella che si basa sui breakout di prezzo ok eh la strategia penso in breakout più comune eh è quella di andare ad operare ad esempio quella di andare a comprare il mercato eh sul breakout del del massimo del giorno prima oppure analogamente vendere il mercato al superamento eh del minimo della giornata precedente questa eh è tra le più comuni forse la strategia diciamo più basica che c'è a livello di breakout anche se oggi non vedremo solamente sistemi di questo tipo perché eh ci sono anche altre tipologie eh di strategie in breakout che si possono mettere eh in pratica e oggi ne vedremo ne vedremo alcune perché perché ad esempio eh si si possono si può anche eh operare con eh dei particolari indicatori quindi vi parlavo prima di degli indicatori eh lagging che si utilizzano per quanto riguarda appunto le strategie trend following quindi anche per i sistemi breakout ad esempio un indicatore eh che io utilizzo moltissimo per quanto riguarda eh la costruzione di diverse strategie di trading è ad esempio il Don Kian Channel eh non so se qualcuno di voi già conosce questo questo indicatore ehm e lo utilizza magari anche qui fateci sapere la la vostra opinione in in chat eh Don Kian Channel è un indicatore che porta il nome del del suo eh ideatore eh sostanzialmente un indicatore molto basico perché eh non fa altro che prendere il massimo e minimo valore degli ultimi n periodi e quindi di fatto eh si vanno a eh plottare sul grafico appunto lo vedete qui due linee una eh superiore e una appunto inferiore eccolo qua e quindi questo è il cosiddetto appunto canale di Don Kian ok e qui il concetto eh sostanzialmente qual è il concetto è che tutte le eh fuoriuscite quando il mercato diciamo ecco ha un range eh ben definito e poi e quindi ecco le linee sostanzialmente si mantengono invariate eh per un certo periodo significa che tipicamente la volatilità è bassa significa che tipicamente il mercato no eh sta affrontando sta affrontando un momento di calma eh quando poi però il mercato rompe questo canale di volatilità andando a fare nuovi massimi oppure eh nel caso appunto della banda opposta nuovi minimi questo eh tipicamente può essere inteso come un segnale di direzionalità e quindi come eh un segnale di breakout in questo caso e poi eh lo vedremo tipicamente per come lo utilizzo io eh il canale di Don Kian tipicamente quando va a ad essere rotto tipicamente eh viene rotto eh su uno dei due estremi diciamo ecco del giorno precedente eh e quindi diciamo ecco può essere rotto attraverso un breakout del massimo del giorno precedente o del minimo del giorno precedente eh però in generale diciamo ecco possiamo avere anche eh diciamo ecco delle delle rotture in in breakout specie eh in caso appunto di di volatilità piuttosto marcata eh oppure di calma diciamo ecco e quindi in situazioni particolari diciamo ecco possiamo anche avere dei segnali diciamo ecco che non sono determinati dalla rottura dei ad esempio dei massimi del giorno precedente come vedete qui anche in questa situazione eh e quindi qui diciamo ecco la caratteristica è quella di cercare di eh trovare diciamo di andare a considerare il numero corretto eh di periodi eh per quanto riguarda appunto la la migliore configurazione del del Don Kian Channel. Eh quindi questo è sostanzialmente è lo stesso discorso e la prima strategia che che vedremo oggi è proprio una strategia eh sul DAX eh è una strategia sul DAX time frame eh cinque minuti ehm Don Kian Channel settato a eh duecento periodi quindi eh duecento periodi su eh time frame cinque minuti sono all'incirca diciamo ecco dovrebbero essere sulle sedici ore se non ricordo male duecento per cinque eh mille minuti eh mille diviso sessanta ora non la calcolatrice sotto mano ma dovrebbe essere grosso modo poco meno di una giornata di trading per quello che vi dicevo prima eh che eh con questo tipo di configurazione andiamo a cercare comunque attraverso il Don Kian dei segnali genera che molto spesso appunto eh il cui appunto superamento la cui fuori uscita da queste bande coincide con il breakout del massimo e del minimo giornaliero quindi qui vi faccio vedere ad esempio sul DAX eh DAX che è un mercato piuttosto adatto a strategie di tipo trend following perché comunque dobbiamo fare una una doverosa premessa eh non tutti i mercati comunque sono adatti ad un'operatività di tipo trend following quindi eh ad esempio per chi opera eh sui sui mercati americani i mercati americani eh per caratteristica non sono notoriamente eh i più adatti ad operare con delle strategie eh di tipo trend following quindi se voi ad esempio andaste a lavorare con il Don Kian Channel eh sull'SP500 o sul Dow Jones eh sicuramente a parità di motore grezzo non riuscireste ad avere la la stessa equity line che vedete qui sul DAX perché comunque eh i mercati americani sono notoriamente eh dei mercati min reverting cosa significa significa che eh quando il mercato appunto tende a ehm a superare diciamo ecco quelli che sono eh i massimi diciamo del giorno precedente il mercato tende eh ad assorbire ok questi 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 minimi e lo stesso discorso eh accade diciamo ecco per quanto riguarda il il superamento insomma ecco dei massimi quindi è un mercato che tende diciamo ecco a a fare molti più falsi breakout rispetto ad esempio al DAX eh e quindi diciamo ecco eh la statistica ci dice che ad esempio sui mercati americani eh conviene fare l'opposto rispetto a quello che facciamo sul DAX ovvero andare a eh comprare quelli che sono i breakout del minimo del giorno precedente e andare a vendere i breakout eh al superamento del massimo del giorno precedente quindi eh tipicamente la situazione opposta rispetto a a quello che si che si fa quando si si opera in breakout dove sostanzialmente si compra il superamento del massimo della giornata precedente si vende il superamento del minimo precedente eh Filippo su questo dimmi se ti posso interrompere eh già qualche domandina io te la vorrei già sparare adesso va bene va bene vai pure vai pure Salvatore ok la la domanda era premesso ora la struttura del diciamo del sistema eh e adesso hai detto ecco anche che bisogna un po' ben decidere dove andarlo ad utilizzare vai ad inserire filtri specifici cioè hai ancora dei sottofiltri o già così la strategia è è completa? Allora eh no eh la strategia chiaramente eh così com'è non è completa perché perché eh ci sono degli accorgimenti eh anche piuttosto significativi che dovremmo mettere in atto eh con le strategie trend follow ma questo al di là di questa strategia al di là dell'utilizzo del del Don Kian Channel perché poi eh adesso stiamo vedendo il Don Kian Channel ma ce ne sono tantissimi ehm di strumenti o di indicatori lagging eh tantissimi tipi di strategie che si possono mettere in atto però oggi vedremo che ci sono diciamo ecco dei punti in comune ok quindi dei filtri che possono eh che se applicati diciamo ecco possono fare la differenza anche su strategie diverse e su mercati diversi eh intanto Andrea ci chiede quando si parla di superamento del max del giorno precedente si intende massimo chiusura no massimo massimo quindi non chiusura quindi massimo del giorno precedente ok eh detto questo ehm alla Giovanni ad esempio ci dice ci chiede il Don Kian è simile alle bande di Bollinger eh sì ma con una differenza significativa perché ehm il Don Kian è costruito partendo dai livelli di prezzo ok quindi il Don Kian prende a riferimento i massimi e i minimi del mercato e su questi a n periodi chiaramente se io cambio il periodo dell'indicatore eh chiaramente cambia diciamo ecco queste bande variano perché varia il numero di periodi precedenti no presi in considerazione eh tipicamente maggiore è il numero di periodi che considero e maggiore sarà l'ampiezza delle bande minore sarà il numero di periodi che considero minore sarà l'altezza delle delle bande eh la differenza fondamentale rispetto alle bande di Bollinger è che le bande di Bollinger sono eh calcolate con delle deviazioni standard della volatilità ok e quindi sono delle bande che chiaramente tengono eh conto della volatilità così come fa il Don Kian perché chiaramente l'ampiezza o la riduzione del Don Kian Channel è funzione diretta e proporzionale della volatilità dello strumento osservata eh punto principale è che se vogliamo le bande di Bollinger sono molto più eh sensibili e per questo che eh hanno no quell'andamento diciamo molto più eh anche sinusoidale se vogliamo no le bande tengono tendono a aprirsi e contrarsi diciamo ecco con maggior frequenza e con maggior diciamo anche impatto visivo proprio perché eh sono calcolate con la deviazione standard eh e quindi diciamo tipicamente due per eh di deviazione standard e quindi diciamo ecco eh sono una strumento molto più eh sensibile poi nulla vieta anzi eh io ne ho diverse di strategie che lavorano con le bande di Bollinger anche eh in in break di volatilità eh anche sul DAX ma non solo anche sul Forex eh e quindi diciamo ecco sicuramente è un valido strumento sia per contrariamente a quello che si può pensare le bande di Bollinger non solo adatte solo a strategie riverting anche se ne abbiamo viste eh diverse nel corso di webinar passati che abbiamo mostrato ma anche eh sono strumenti altrettanto efficaci efficaci per strategie in trend following. Detto questo torno alla domanda di di Salvatore perché eh questo è quello che vedete con un Domkian Channel standard 200 periodi grafico a 5 minuti tipicamente qui lavoriamo long e short al superamento del massimo o del minimo della giornata precedente. Vedete che il sistema eh tutto sommato guadagna è un equity line anche tutto sommato eh decente però eh chiaramente quello che non ci piace è che vedete il leverage trade non è altissimo perché parliamo di circa eh un quarantuno euro per trade vedete che anche il profit factor è piuttosto basso intorno all'1 e 12 e soprattutto il profitto totale diviso per il drawdown eh vedete che ci restituisce un valore di poco superiore a tre ok che insomma ecco questo tanto per farvi capire non è una metrica eh accettabile per diciamo ecco garantire una aspettativa di profittabilità eh per quanto riguarda non solo questa ma anche qui tutte quante le strategie quindi eh dovremmo cercare di inserire dei filtri per migliorare la nostra la nostra strategia uno dei filtri più efficaci che possiamo eh mettere in eh a sistema per aumentare la la profittabilità delle strategie in breakout eh è questa qui ovvero andare a tradare il mercato il giorno successivo se e soltanto se vedete qui l'esempio se ieri il mercato ha mostrato una contrazione di volatilità ok qui vedete ad esempio che ehm ieri il mercato no aveva eh questo è un esempio sul dax aveva mostrato un range giornaliero piuttosto marcato ok eh mentre appunto nella giornata successiva vedete che il range è andato a contrarsi ok è stato grosso modo la metà del giorno precedente e vedete che anche la direzionalità del del mercato non è stata marcata ok perché abbiamo avuto sostanzialmente un un mercato che è andato ad aprire e chiudere sugli stessi livelli questo eh lo vedete graficato su un cinque minuti ma tanto per farla breve è come se noi su un grafico eh giornaliero andassimo di fatto a cercare che cosa a cercare una candela di tipo doji ok quindi un mercato che apre e chiude sugli stessi livelli dopo aver fatto un certo tipo di escursione eh al di sopra dell'apertura e al di sotto della stessa è una una candela tutti gli effetti d'oggi no una candela che segnala indecisione quindi che cosa succede se io vado a eh inibire diciamo l'operatività della mia eh strategia eh quando il mercato non mostra una marcata eh riduzione della volatilità e della direzionalità o meglio diciamo in un altro modo che cosa succede se io vado a tradare il mercato e quindi entrerò a mercato eh oggi se e solo se la giornata di ieri sarà stata una giornata priva di direzionalità con appunto una eh differenza diciamo esigua tra apertura e chiusura lo andiamo a vedere eh subito eccolo qua e vedete come eh le cose migliorano in maniera notevole ok perché perché chiaramente il numero dei trade si riduce perché passiamo dai circa duemila ottocento trade ai mille cinquecentosessantaquattro quindi il numero di trade è poco meno che dimezzato ok però guardate come il profitto totale cresca dai precedenti centosedici eh agli attuali centocinquantasei ma soprattutto eh il drawdown passa da trentadue mila e novecentoquarantasette eh ad appena tredicimila e trecentododici quindi il drawdown risulta quasi un terzo ok e questo proprio perché eh su questo salvatore lo lo sappiamo eh i mercati sono come una molla no? E quindi molto spesso quando vediamo il range che si contrae la volatilità che diminuisce quello è un segnale evidente che il mercato di lì a poco eh riparterà con un breakout ripartirà con la volatilità e quindi sono quelle le situazioni sulle quali dovremmo concentrarci sono quelle le situazioni che dovremmo andare a cercare quando vogliamo lavorare in breakout perché molto spesso andare eh a lavorare in in breakout appunto dopo che eh si è osservato come vediamo qui ad esempio un certo numero di eh candele ad ampio range in questo caso eh rialziste eh ci esponiamo che cosa? Ci esponiamo a un maggior rischio di break in ovvero a un maggior rischio che eh il successivo breakout venga riassorbito e il mercato proceda con eh un'inversione di di tendenza. Non so se sei d'accordo su questo e se se anche tu Salvatore eh diciamo ecco ti ritrovi con questo tipo di dinamiche. Sì sì assolutamente sì Filippo il come sempre il discorso è eh volatilità è un principio ciclico no? e quindi come tutto ciò che è ciclico nel trading ci mette alla prova con il timing d'ingresso quindi scegliere quando applicare un principio che può essere anche semplice come il breakout eh hanno un poche insidie perché scegliere il momento sbagliato quando oramai la sua brava espansione di volatilità è terminato o ha già dato e beh ci espone come hai detto tu al al break in no? Al falso breakout, allo spoof come lo si vuol definire poi e soprattutto con poi degli asset che hanno maggior peculiarità di min reverting no? Quindi lì ancora di più ci esponiamo a un rischio eh c'è da starci attenti e bisogna quindi ecco la necessità per questo la domanda del filtro cioè andare a pulire alle volte meglio tradare forse un po' in meno ma avere dei filtri che ci diano una maggiore attendibilità al segnale questo ci dà sicuramente un input e ne parlavamo anche nell'ultimo webinar no? Cioè meglio tradare un po' in meno tradare bene ed essere eh diciamo disciplinati in una strategia questo sicuramente i numeri lo dimostrano insomma danno si dà tanto tanta qualità in più al nostro trading insomma eh assolutamente assolutamente sì eh Gabriele chiede come eh quantifichi nel trading system questa contrazione di volatilità e assenza di direzionalità ma allora ce ne sono diversi di di modi eh ma allora per quanto riguarda contrazione di volatilità la condizione più semplice è eh range di oggi minore del del range di ieri banalmente poi questa condizione potrebbe essere applicata ehm anche con la TR ad esempio quindi eh lavorando con un indicatore eh ATR eh tipicamente però non eh ai quattordici periodi eh di default ma io tipicamente lavoro con il massimo cinque periodi proprio perché voglio catturare una o adesso ve lo volevo mettere eccolo qua leverage true range ma non a quattordici piuttosto eh quindi cercare diciamo con una contrazione di volatilità eh di più breve di più breve orizzonte temporale eh mentre per quanto riguarda l'assenza di direzionalità anche qui eh ci sono diverse lo si può fare in diversi modi una delle condizioni più semplici è quella di andare a rapportare la distanza tra apertura e chiusura rispetto alla distanza che c'è tra massimo e minimo ok perché perché ad esempio qui vedete che se prendo una candela eh ad ampio range qui vedete che la distanza eh che c'è tra apertura e chiusura tutto sommato è la grosso modo la stessa poco meno rispetto a quella che c'è tra massimo e minimo no? Eh invece quando il mercato mostra assenza di direzionalità si ha la condizione opposta ok ovvero dove la distanza che c'è tra apertura e chiusura è molto minore rispetto eh alla distanza che c'è tra massimo e minimo quindi eh quello che vado a scrivere tipicamente è di cercare appunto eh solo quelle con quelle situazioni nelle quali appunto è è verificata questa condizione qui ovvero che si ha un un rapporto tra apertura e chiusura molto minore di eh di massimo minimo ok? Eh poi Andrea ci chiede la strategia si può applicare a periodi più lunghi ad esempio settimanali? Allora assolutamente sì questa strategia qui ad esempio è una strategia giornaliera però eh nulla vieta io ho anche sistemi che lavorano col col Donchian ehm su orizzonte weekly quindi tipicamente diciamo ecco per questo tipo di trading si possono andare ad isolare delle situazioni cioè qui il concetto è è molto semplice andando a isolare diciamo ecco delle eh dei setup di questo tipo eh si può lavorare sia intraday ma anche eh settimanale ok? quindi tipicamente il segnale che avete quando osservate delle candele giornaliere a a range ristretto e quindi con volatilità ristretta e direzionalità non marcata tipicamente questo è un segnale che può essere sfruttato anche per un'operatività su base settimanale questo sicuramente eh quindi detto ciò come detto il Donchian è un indicatore valido eh sul quale sicuramente si possono andare a implementare strategie di questo tipo ma non è l'unico eh ad esempio qui eh questa è un'altra strategia che che tra l'altro ho già mostrato diciamo in qualche altra occasione anche questa sul DAX eh e ad esempio questa è una strategia eh in breakout eh non sul superamento del massimo o del minimo giornaliero ma è una strategia invece che lavora sul superamento del massimo in questo caso quindi non del minimo perché questa è una strategia che va solo short eh solo long chiedo scusa ma che lavora sul superamento eh del massimo rispetto a un determinato box di prezzo un determinato box di prezzo che è quello che il il DAX forma nelle prime cioè a partire dalla dalla close di ieri e fino alle due o al termine delle prime due ore di apertura della sessione cash quindi tra la chiusura di ieri e le undici di oggi ok se il mercato va a rompere al rialzo quindi dopo le undici questo box di prezzo eh allora io entro long eh questa è la l'equity line che viene fuori da un un sistema di questo tipo qui ripeto andiamo eh solo long e un un equity line che vi fa vedere eh un'operatività appunto tutti i giorni della settimana e in tutte le condizioni quindi senza quel famoso filtro di compressione di volatilità ehm che abbiamo visto adesso ok e quindi anche qui metriche non male quindi sistema grezzo diciamo ecco che anche qui lavora abbastanza bene tenuto conto che eh è una strategia che lavora eh eh non long short ma eh solo long e quindi la domanda anche qui è possiamo fare qualcosina in meglio cosa succede se anche qui applichiamo un filtro eh di compressione di volatilità come quello che abbiamo visto eh e quindi anche qui eh le metriche migliorano notevolmente ok perché chiaramente anche in questo caso le operazioni totale diminuiscono ma il profit factor passa dai 49.006 ai 59.600 ehm quindi magari ecco non neanche in questo caso un miglioramento neanche troppo eccessivo ma il drawdown passa dai 8.900 quindi circa 9.000 euro ai 6.300 quindi anche qui eh marcata riduzione del drawdown eh e profit factor tant'è che il profit factor passa da 1.32 a 1.61 quindi eh anche qui insomma ecco su per quanto diciamo ecco lo vedremo adesso che eh si può lavorare non solo sul sul DAX magari su quest'altra strategia era anche scontato che eh come dire lo stesso filtro andasse a a influenzare positivamente anche questa strategia però per completezza ve l'ho fatto ve l'ho fatto vedere. Infatti penso che eh adesso era proprio il il principio che ti volevo chiedere perché chi di voi ha visto anche un po' la serie perché ci sono tutti i webinar precedenti fatti con Filippo si parlava eh di bias no? Il discorso di andare a vedere come alcuni asset hanno eh delle delle cosiddette abitudini di movimento eh e quindi cosa fate? Integrate entra perché non voglio dire le strategie e i trading system se abbinati vedo che danno risultati che vi ha migliori quindi fate anche questo tipo di ragionamento immagino. Allora assolutamente sì eh chi mi conosce sa che eh la mia operatività si basa molto sull'individuazione e sullo sfruttamento delle delle distorsioni di mercato sui cosiddetti intraday seasonal eh e quindi eh ad esempio questo vedete che per quanto riguarda il il DAX poi cambiamo strumento vedete che questa è la media del movimento settimanale del DAX e vedete ad esempio che eh abbiamo visto che la strategia che abbiamo appena visto adesso è una strategia che lavora long e short ma vedete che eh applicando tutti i giorni ad esempio la stessa strategia long e short non abbiamo mai le stesse probabilità eh di chiudere la posizione in profitto perché perché qui si vede molto bene da questo grafico eh ci sono delle giornate ma questo non solo per il DAX per tutti eh gli strumenti delle giornate dove il mercato ha maggiore probabilità di chiudere la sessione in rialzo tipicamente per quanto riguarda il DAX le giornate più forti sono il martedì e il mercoledì mentre invece ad esempio eh il giovedì è la sessione più debole ok e quindi qui ad esempio quello che sono andato a fare con con questa strategia è visto che questa strategia eh lavora soltanto long ho escluso dall'operatività la giornata del giovedì che è la giornata tipicamente più debole e quindi questa ad esempio è l'equity line del sistema che abbiamo visto adesso quindi che lavora sempre sul sul breakout del box di prezzo eh con il filtro di compressione di volatilità escluso però la giornata del giovedì ok eh vedete che tutto sommato diciamo ecco passiamo dai 59.600 ai 54.660 quindi una piccola se vogliamo riduzione diciamo dei profitti però guardate che cosa succede al drawdown drawdown che prima era di 6.300 euro ora siamo scesi a 5.178 ok tant'è che il profit factor è passato dai precedenti 1.61 agli attuali 1.65 e la ricompensa attesa per trade è passata dai 108 e 17 ai 113 e 88 proprio perché abbiamo eliminato eh quella che è la giornata statisticamente meno favorevole agli acquisti e quindi diciamo ecco questo è sono tutti come dire magari piccoli eh accorgimenti che però insomma ecco messi insieme fanno eh la differenza e massimizzano le probabilità di profitto ve lo ricordo sempre parliamo di di probabilità e mai di certezze perché qualora nel trading eh avessimo a che fare con delle certezze i mercati chiuderebbero domani mattina quindi eh diffidate sempre da chi vi dà certezza nel trading il massimo che possiamo fare è spostare le probabilità a nostro favore tra l'altro questo sistema eh che vedete qui lo trovate anche sul sul sito ed è disponibile eh tra appunto i sistemi che sono eh che potete ottenere diciamo ecco con modalità eh gratuita e se guardate eh qui trovate il backtest storico che vi ho fatto vedere ma trovate anche le performance aggiornate eh a mercato reale quindi le potete eh diciamo ecco consultare io le aggiorno eh diciamo ecco mese e mese quindi questa ad esempio è il la strategia aggiornata al duemilaventuno eh quindi con la parte eh in sample e la out of sample eh e poi invece quello che vedete qui è tutto mercato reale e quindi ad esempio quest'anno nel duemilaventiquattro dopo un duemilaventitré eh diciamo ecco anch'esso chiuso in positivo siamo eh anche insomma anche nel duemilaventiquattro il sistema si sta eh ben disimpegnando eh detto questo ehm allora eccolo qua ok ah questo vi voglio far vedere una slide perché eh venerdì diciamo ecco abbiamo aperto un abbiamo avuto un nuovo segnale eh sul DAX quindi eh tra l'altro questo è lo screen che ho fatto prima ma eh poi ho visto che il DAX si è ulteriormente mosso a rialzo e quindi per esempio in questo momento abbiamo una posizione aperta dalla da questo tipo di strategia eh è aperta appunto nella giornata di di venerdì dopo che il mercato ha riassorbito eh questo falso breakout dei minimi e quindi qui sul superamento al rialzo del box di prezzo siamo entrati a mercato long eh detto ciò tanto per restare appunto in tema di 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 intraday seasonal le strategie in breakout anzi lo riferisco sono particolarmente adatte ad essere applicate a quei mercati eh che presentano delle distorsioni marcate eh come ad esempio lo è il il gold ok il gold sappiamo che tipicamente nel corso eh della della sessione eh si muove sempre un po' a a doppio mandato no nel senso che abbiamo una prima parte di sessione piuttosto debole poi il mercato ormai lo sapete per chi ci segue il mercato tende a reagire nel corso della seconda parte di sessione quindi ehm diciamo ecco sempre un un comportamento grosso modo di questo tipo però eh con le dovute differenze sessione per sessione perché ad esempio eh sul gold abbiamo che banalmente la sessione del lunedì è la sessione più debole della settimana mentre invece la sessione del venerdì statisticamente è la sessione più forte allora che cosa succede se io anche qui vado ad applicare eh una strategia con il canale di Donchian sempre anche qui una strategia un canale di Donchian cinque minuti duecento periodi ok eh e la vado applicare eh una strategia che lavora solo due giorni a settimana ok e quindi vado ad applicare una strategia che di fatto eh va short il lunedì ok e quindi eccolo qua guardate oggi eh è una strategia che va short il lunedì e long il venerdì ok quindi di fatto solo con due trade a settimana vedete come sostanzialmente abbiamo una equity line più che dignitosa eh profitto totale di circa 99 mila euro e drawdown di circa 11 mila euro ma anche qui se io vado ad applicare la medesima condizione che abbiamo visto prima sul DAX anche qui la domanda che ci possiamo fare è che se anche il gold che è un asset totalmente eh diverso rispetto al DAX eh se questo ci quello che ci dovremmo chiedere è se se questa condizione di comprensione di volatilità ha un qualche effetto la andiamo ad applicare così come l'abbiamo vista ovvero una riduzione appunto di eh in questo caso di di direzionalità quindi un filtro che sostanzialmente eh ci impone di tradare il mercato oggi soltanto se la sessione precedente eh è stata caratterizzata da una da una candela doji tanto per farla più semplice possibile eh e quindi io traderò short il mercato eh il lunedì solo se la candela del venerdì è stata una candela doji eh altra condizione traderò il mercato long al venerdì solo se la sessione del giovedì è stata una candela doji e qui vedete come eh anche in questo caso le metriche migliorano notevolmente perché qui addirittura eh vedete che il profitto totale netto passa dai novantanove mila eh dollari ai novantuno mila dollari quindi eh abbiamo una leggera diminuzione del prof del profitto totale ma con eh un numero di posizioni totali quasi dimezzate e soprattutto il drawdown passa dai undici mila euro ai sei mila eh sei mila dollari undici mila dollari scusate sei mila e cento dollari quindi un drawdown che è quasi dimezzato tra l'altro anche qui vi faccio vedere eh quella che è la strategia aperta eh nella giornata odierna perché eh questo è lo screenshot che ho fatto all'incirca alle quattro di pomeriggio ma eh se vediamo oggi abbiamo avuto veramente un ottimo eh segnale perché qui vedete che la giornata di venerdì è stata una giornata magari ve lo faccio vedere anche proprio eh eccolo qua con una candela e su grafico dei vedete che abbiamo avuto una candela eh non una vera e propria ad oggi ma comunque una candela con il corpo molto di ampiezza molto minore rispetto alle shadow e quindi un setup di sostanziale indecisione eh nella giornata precedente unito alla statistica che ci dice che il lunedì è la giornata statisticamente più debole eh del del gold fa sì che eh appunto andiamo anche in questo caso a massimizzare eh il potenziale della nostra strategia qui vedete che il Donchian quando vi parlavo prima di massimi e minimi grosso modo duecento periodi sul cinque minuti siamo grosso modo a andiamo a costruire un un canale eh sui massimi e minimi della sessione precedente qui si vede molto bene che siamo entrati eh proprio sul breakout del minimo eh e quindi insomma ecco una strategia che anche nella giornata odierna eh ha restituito diciamo un ottimo un ottimo trade. Filippo io ti ti interrompo ancora perché ho visto che abbiamo parlato degli indici abbiamo parlato il gold con anche l'intera dei stagioni d'altro lo sai io faccio forex l'abbiamo detto cioè io il mio core è tutto forex tutto ciò è applicabile anche al mercato valutario dammi un po' un input. Allora assolutamente assolutamente sì perché perché queste condizioni eh valgono anche per quanto riguarda il forex eh io l'ultimo tant'è che l'ultimo esempio che vediamo eh è qui su un motore grezzo proprio perché altrimenti sembra che eh come dire queste chiaramente sono delle strategie che sono eh ottimizzate e sono delle strategie fatte e finite però se io qui vi faccio vedere quello che succede eh anche andando a testare un motore grezzo quindi non una strategia ottimizzata una strategia fatta e finita eh qui ad esempio è una strategia eh sul quindici minuti sempre con il donkian cambio sterlina dollaro eh qui addirittura è un motore semplicissimo nel senso che non abbiamo eh filtri operativi non abbiamo neanche stop loss e target quindi eh strategia intraday semplicemente entriamo a breakout sul massimo long entriamo in breakout short sul minimo a fine giornata dove siamo siamo la posizione viene chiusa ok eh questo è quello che succede andando a tradare tutti i breakout di prezzo ok quindi tutti i superamenti del massimo e del minimo eh in questo caso vedete che è un equity line che di fatto non va da nessuna parte sì per carità un'ultima eh fase più recente di di buoni guadagni ma eh dal duemiladieci sostanzialmente al duemiladiciassette diciotto eh una strategia che ha solamente perso se io vado ad applicare anche qui la strategia diciamo ecco che mi impedisce di tradare un breakout a meno che nella giornata precedente io non abbia osservato una candela di eh indecisione quindi una candela di eh riduzione di volatilità una candela eh dove appunto il mercato mi non mi mostra diciamo ecco una direzionalità eh marcata e qui vedete come l'applicazione anche su un un cross valutario di questo tipo di condizione eh comporta un netto miglioramento delle metriche rispetto questo ripeto questo è un motore grezzo non non siamo eh diciamo non abbiamo la pretesa di eh avere un una strategia fatta e finita eh queste metriche per quanto buone eh e l'equity line diciamo ecco tutto sommato decente ma non ci permetterebbero di mettere questa strategia eh a mercato reale domattina però osservate diciamo ecco come anche in questo caso l'applicazione di un filtro di questo tipo apporti una nettissima eh differenza tra appunto le i due statement quindi i due track record eh io prima di di chiudere eh prima di magari ecco anche rispondere a a a le domande diciamo che ho visto che ne sono arrivate diverse io approfitto eh per ricordare i bonus per i partecipanti di oggi eh ovvero innanzitutto per tutti coloro che apriranno il conto eh reale un nuovo conto reale avete una licenza annuale gratuita eh di due trading system a scelta eh inclusa la strategia eh nemesis sul DAX che avete visto oggi eh e poi avete anche invece un un codice che è liberamente sfruttabile quindi anche per chi ha già un conto oppure anche per chi magari lavora eh in demo quindi sta facendo pratica eh un bonus code del dieci per cento valido sul sito eh forecastcycle.com che è il sito eh sul quale diciamo ecco io vado a cercare eh i miei bias eh quindi le inefficienze su tantissimi mercati perché qui avete bond, commodity, crypto, forex eh e quant'altro e quindi è un software proprio per fare scanning appunto di questo tipo di inefficienze eh anche se poi trovate tutta una serie di altre eh sezioni insomma dove trovate tante statistiche eh interessanti eh per andare diciamo ecco a massimizzare il discorso è sempre lo stesso a massimizzare le profittabilità le le percentuali di profittabilità appunto di di tutte le vostre eh strategie. Allora eh Cosimo ci chiede il problema ci dice il problema di queste tecniche che devono essere per forza automatizzate per rendere altrimenti manualmente diventa difficile se rischi di saltare operazioni positive che coprirebbero le perdite. Eh allora in parte posso essere d'accordo con questo tipo di ragionamento però va detto che comunque eh tutte le considerazioni che abbiamo fatto oggi cioè ovvero il fatto che statisticamente i trend hanno più probabilità di partire dopo una fase di compressione di volatilità queste sono regole valide per chiunque quindi eh Salvatore anche Salvatore che eh lui opera prettamente indiscrezionale eh ce lo può confermare insomma sono regole non è che sono principi che sono validi solo eh quando si opera con i trading system ma sono principi che sono validi anche per chi opera in indiscrezionale. Poi se sbaglio scusami e l'hai detto prima che il il sistema è valido anche su time frame più ampi quindi a meno che non lavoriamo su davvero dei time frame strettissimi credo che ci sia tutto il tempo di andare a strutturare un'analisi e e improntare poi la strategia no? Se si va su H4 daily weekly si lavora con tutto il tempo insomma. Certo certo no no ehm assolutamente no poi se Cosimo preciso che non era un'affermazione negativa no no ma ci mancherebbe no il discorso è è che io vi faccio vedere anche tutti questi eh statement e tutte queste simulazioni eh anche insomma ecco per dare poi un come dire un riscontro a tutto quello che a quello che diciamo insomma eh per quanto mi riguarda insomma il bello dell'automazione è che eh io posso testare prima eh se diciamo ecco un setup quantomeno ha delle probabilità di ehm insomma poter essere poi successivamente testato al mercato piuttosto che diciamo ecco magari andare un po' no alla cieca eh senza aver fatto dei dei test però ecco eh molto spesso diciamo ecco il il bello è che eh il bello del trading è che come abbiamo detto volta scorsa oggi abbiamo a disposizione una moltitudine di software e di strumenti per testare praticamente tutto eh poi è chiaro nel trading non abbiamo la cert non abbiamo mai la certezza che un sistema una strategia che funziona oggi continuerà eh a funzionare in futuro ma questo è valido eh per qualsiasi strategia operativa sia essa discrezionale sia automatica cioè è proprio un qualcosa insito nel nel mondo del trading quindi eh diciamo ecco però è chiaro che come dico sempre se un un certo tipo di setup eh non supera il processo di validazione è chiaro cioè se se qualcosa funziona e ed è stata validata con successo allora abbiamo probabilità che eh questa strategia continuerà ad essere profittevole in futuro ma se io vado a a validare un'idea e i risultati di backtest sono già di per sé negativi io ho praticamente zero probabilità che la mia strategia sia valida in futuro quindi eh ripeto è tutto un discorso di andare a spostare le probabilità eh a nostro favore quindi di mettere in pratica no? Di aggiungere dei piccoli tutti dei dei piccoli no? Eh pezzettini delle delle piccole magari anche accorgimenti al nostro bagaglio di trading per cercare appunto di massimizzare il il nostro ritorno certo certo assolutamente sì sono d'accordissimo leggo va bene sì penso che abbiano risposto a tutto perché poi vedo che hanno chiacchierato tra di loro no va bene va bene ma il il dialogo e eh come dire il il dibattito è sempre è sempre anzi sempre bene accetto Cosimo ci chiede avete qualcosa che lavora con tecniche di edge? Allora tecniche di edge eh prettamente dette no? Nel senso che eh diciamo ecco sistemi magari lo diciamo anche per chi magari non ha familiarità con questo tipo di tecniche ovvero magari strategie che eh entrano eh contemporaneamente long su uno strumento e short su un altro strumento eh per poi diciamo ecco andare a lavorare no sul eh proprio su su quello che è il differenziale no? Eh che c'è tra le due operazioni in eh chiusura qui quindi eh su questo no ci sono magari ecco delle strategie che possono lavorare per quanto riguarda alcuni cambi eh tra loro correlati eh che possono lavorare diciamo ecco con strategie eh di questo tipo eh anche perché di fatto quando si lavora eh con un cross già di per sé si fa del ledging perché se io eh vado long su eh euro dollaro significa che sto contemporaneamente eh comprando euro ma di fatto anche eh vendendo dollaro quindi su questo diciamo ecco ci sono eh delle strategie diciamo che abbiamo sotto questo punto di vista ma questo è anche il eh motivo per cui se andiamo a vedere gli intraday seasonal eh sui cambi valutari vediamo anche qui molto spesso delle delle sessioni a due facce no? Quindi mercato che magari si mostra eh direzionale eh in un certo in un certo verso appunto in una nella prima parte di sessione mentre invece poi mercato che tende diciamo ecco a invertire la rotta quando eh cambiano gli equilibri eh quindi questi equilibri quando è che cambiano? Cambiano magari quando chiude un un certo tipo di mercato come quello europeo e e si apre invece la la time window di un altro tipo di mercato come potrebbe essere Wall Street quindi però ecco questo magari non non ci addentriamo siamo già fuori tempo massimo eh magari avremo modo di di parlare di questo nel nel corso dei prossimi nel corso dei prossimi appuntamenti lo faremo ben volentieri. Grande ok ok. Filippo io direi di andare a chiusura no? Innanzitutto ti ringrazio abbiamo fatto un'ora e dieci siamo andati proprio lunghi 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 eh io chiudo soltanto con i saluti e ci vediamo il prossimo appuntamento se non dico eh Bagianate l'hai ricordato poco fa dal sito di Trading Facile eh con dimmi se sto sbagliando in data eh ventinove di questo mese quindi di fatto la prossima settimana saremo ancora insieme eccolo qui perfetto vi potete già iscrivere fin da ora praticamente al al webinar eh nulla cosa dire Filippo io ti ringrazio a nome mio a nome di Keto Trading trovate le registrazioni il webinar registrato qualcuno lo chiedeva prima in chat a tutti riceverete potete chiederlo potete allora tutti coloro che si sono iscritti lo riceveranno la registrazione eh entro un paio di giorni quindi al massimo mercoledì riceverete la registrazione eh poi comunque la registrazione verrà eh anche pubblicata sui canali di Keto Trading e quindi diciamo ecco sarà disponibile di fatto eh a tutti quindi insomma potete richiederla sia a me qualora non doveste riceverla potete comunque richiederla sia a me eh che a Salvatore perfetto io ringrazio tutti coloro che sono stati con noi ringrazio anche Cosimo Mariana eh Andrea e ringrazio Salvatore che è sempre un ottimo eh compagno di viaggio e quindi vi do appuntamento a lunedì prossimo mi raccomando webinar caldissimo e quindi di nuovo buona serata e buon training a tutti ciao 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 ciao